Lunedì 3 ottobre il Campus del Pionta apre le sue porte alle matricole con il Welcome Day, la giornata di benvenuto che dall'inizio ha i nuovi corsi ma una giornata di benvenuto anche alla cittadinanza e tanti che magari ancora sono indecisi. Un momento di accoglienza delle matricole, allora che cosa significa accogliere? Consentire ai novizi, quindi alle studentesse, ai studenti che si sono iscritti di familiarizzarsi con quello che sarà il luogo, un luogo che è anche loro e che è anche costruito a loro immagine e somiglianza. Sono tre le cose a cui noi puntiamo. Prima di tutto l'università non è fatta solo di aule, l'università mette a disposizione degli studenti degli spazi tutti loro dove fare autoapprendimento, dove discutere in gruppo. Noi mettiamo a disposizione l'internazionalizzazione, anche questo è molto importante, entrare in un luogo che è ad Arezzo, che è vicino forse a dove abitano ma che li può condurre in Europa. Può consentire loro di fare delle esperienze internazionali e di apprendere come si vive, come si studia in altre università. L'altro discorso è il tutorato. Non siete soli, l'università può essere anche un momento in cui si incontrano delle difficoltà, avete degli studenti più esperti di voi che vi possono, in uno scambio alla pari, sostenere, aiutare, incoraggiare, facilitare. E avete dei docenti che non sono solo docenti, cioè pagati per insegnare ma anche per svolgere un'attività di tutorato, quindi per accogliervi quando siete stanchi, quando siete disorientati, quando avete bisogno di un rinforzo.